La nuova spiaggia delle Dolomiti è appena stata inaugurata e subito c'è un modo per utilizzarla in maniera alternativa. Ad Auronzo prenderà via questo weekend la prima di due tappe dello Yoga Summer Tour, proposto dall'associazione Cuori di Luce che organizza lo Yoga Day di Treviso dal 2015. Oltre a questo fine settimana ci sarà anche una seconda opportunità auronzana nel weekend di Ferragosto. Tra il 28 e il 30 agosto invece il tour fa tappa ad Arabba. L'offerta al generale è di 5 o 6 lezioni di Yoga al giorno della durata di un'ora e con un massimo di 30 partecipanti per turno. Sono tutte gratuite, per iscriversi basta rivolgersi alla segreteria in loco. Sabato 25 luglio un'esperienza particolare e immersiva, i bagni di Gong tutti da scoprire. Il Summer Tour debutta di fatto ad Auronzo dopo gli eventi online delle scorse settimane.